... Grazie. 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 La temperatura era come un bruletto. Stanno proprio l'estate. Una volta si arriva con l'848. Si è straordinato. Era umido. E' un padecino torna a casa. Prada di ciò. Quattro è un esame. Dio. E' un centro della strada. Ci impegniamo a un comportamento prudente e reale. Rispeccosi della nostra persona. E' impegnato. Come è possibile. Siamo assoluti. Questo lo devi dire. Come sai. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.